buongiorno ragazzi oggi vi portiamo a fare un giro perché dobbiamo fare una cosa che è una cosa che dobbiamo fare più tardi vi mostriamo tutto per ora è soltanto che dobbiamo fare una cosa però sì sono felice stiamo andando a comprare il telefono nuovo per mia sorella arrivederci ciao a 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 Grazie a tutti Ed eccoci qua L'acquisto è stato fatto Ora non tocca a chi è Ed ecco qui Il nuovo acquisto E' enorme Non so togliere Così magari Girano Vabbè poi c'è Il caricatore Oddio come strano Poi Questo è il cavo Che dopo apra E le cuffie Questo è il cavo Ha detto che devo metterla a caricare adesso E' strano Niente è molto minimo in realtà Cavo, cuffie e telefono Ora mettiamo il telefono in carica Lo accendiamo E vi facciamo vedere La figata dell'anno Ok abbiamo appena finito di Configurarlo E ora vi facciamo vedere La figata di questo telefono Anche se Ormai la sanno tutti Ci sono io Con la mia fotocamera E' una figata Spero che non mette a fuoco Ok Niente ragazzi Spero che sia stato un bel video Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace Seguiteci su Instagram Che adesso che abbiamo un telefono buono Metteremo un sacco di roba Ciao